Padre Keller, un religioso della California, parlando nello stadio di Los Angeles a centomila persone, si interruppe e disse, ora non abbiate paura, spengo le luci. Fattosi buio, continuò, ora accenderò un fiammifero, quelli che lo vedranno brillare dicano la parola sì. Si intese un urlo di approvazione. Così, spiegò il padre, brilla nel buio del mondo la luce di un'azione di bontà. Di nuovo si spensero le luci nello stadio e una voce intimò. Tutti quelli che hanno un fiammifero lo accendano. Di colpo lo stadio fu in maso da una luce sconfinata. così, concluse il padre, tutti insieme possiamo vincere le tenebre del male.